Eccoci rientrati in studio, prima di commentare, di iniziare il commento di questo 1 a 1 tra Barcellona e Napoli andiamo subito da Dino Piacenti per i saluti finali dalla Principeria Lucio, ti senti finalmente? Ci siamo, mi ascolti bene? Perfettamente, vai! Oh, voglio farti salutare da Mauro Ciao Lucio E questa bellissima ragazza che l'ha finanziata Anita perché vuole ricordare una cosa importante l'8 marzo qui alla Principeria a Casa Votore, cosa accadrà? Avremo delle offerte per tutti coloro che ordineranno dei panini col nome femminile Che bello, quindi in occasione è qui in onore della donna, la festa della donna Assolutamente sì Quindi mi raccomando organizzatevi, grazie per l'ospedalità Mauro Grazie a te e grazie a tutti quanti voi E forza Napoli, grazie anche a Olindo e Dora naturalmente che ci hanno accompagnato tutti gli ospiti Dallo ziodino è tutto con Giuseppe Trapolino Scusate il ritardo ma i saluti ci volevano Anita, erano d'obbligo Grazie Mauro per l'ospedalità Grazie, arrivederci e buona serata Dalla Principeria di Casa Votore è tutto, da Dino Piacenti al lunedì Ciao Lucio, a te la linea Ciao ziodino, grazie, grazie mille Un saluto a tutti gli amici della Principeria Allora Carlo, iniziamo il commento di questo Barcellona-Napoli nell'andata 1-1 Risultato più che positivo per il Napoli Al gol di Zierischi ha risposto Fennan Torres su un calcio di rigore che secondo me c'era Perché il braccio è troppo largo di Juan Jesus E tocca il pallone nonostante insomma le lamantele dei tifosi e anche di Luciano Spalletti Questi match report, Carlo Sì Lucio, allora partiamo dal risultato Perché come dici tu 1-1 Pareggio al Camponau Questo è un risultato d'oro per il Napoli Perché ha ancora la possibilità di giocarsi da accesso agli ottavi di finale E ancora il destino alle proprie mani Poi dobbiamo invece andare ad analizzare quella che è stata la partita Perché la partita ci ha detto che il Barcellona è stato tecnicamente superiore al Napoli Ha dominato il campo e non ha permesso agli azzurri di fare il proprio gioco Quindi questo forse è stato a mio parere il Napoli più snaturato dell'intera stagione Io non ho mai visto un Napoli che non ha creato vere palle gol E che non è mai riuscito ad instaurarsi nella metà campo avversaria Invece questa partita è andata così Negli anni passati abbiamo visto grandissime squadre contro il Barcellona Vivere lo stesso destino Perché loro sono i maestri del palleggio Però abbiamo visto anche grandi squadre sfruttare quelle che sono state le armi del Napoli Ovvero i campi larghi e i contropiedi Il Napoli quando è riuscito ad attaccare seguendo il proprio piano gara È riuscito anche a impensierire il Barcellona Soprattutto con Osimène che ha dato davvero filo da torcere ai difensori blaugrana Il Barcellona ha creato tanto Però l'unico gol che ha fatto l'ha fatto poi sul rigore Non è riuscita a capitalizzare quello che è stato la mole di gioco Quindi diciamo che il Napoli non esce con le ossa rotte dal campo no Ma esce con le stimmate di una personalità Che può davvero portare poi dei benefici a livello di trofei Anche perché tra sette giorni racconteremo tutta un'altra partita Nel senso che si giocherà in casa con la spinta del 75% dello stadio Che sarà ovviamente di colore azzurro Per cui ci aspettiamo un Napoli che veramente giocherà fino in fondo Tutte le chance per poter approdare all'ottunno successivo dell'Europa League Stanno iniziando le partite delle ore 21 Noi intanto iniziamo a prendere le vostre chiamate di questo post gara Pronto? Pronto? Con chi parliamo? Buonasera, sono Lino Ciao Lino, buonasera, prego Buonasera, niente, molto semplicemente volete dire Perché il signor Spalletti da due partite Cerca sempre a 79esimo di farcele perdere per forza Con questi due cambi inutili Oddio, inutili fino a un certo punto Mertens davanti, tutto a posto Perché non mette Petaglia al posto di un ass? Che è un ass, diciamo, ok Brevi, piccoli, velocità Ma non servono praticamente a niente Ci servono solo a schiacciarci verso il basso e farci perdere la partita Vorrei capire in testa Spalletti Perché questa mentalità che dobbiamo perdere per forza? Non la capisco Perché anche in questa serata abbiamo quasi perso Perché ovviamente ci ha graziato due volte, diciamo In area di rigore in Baccellona Però a prescindere da tutto, diciamo, siamo molto fiduciosi Però, diciamo, ho questa grande paura, diciamo, anche per una sciocchezza Attendere questo fatidico gol anche negli ultimi minuti Cioè noi invece di farlo Cioè tendiamo a subirlo il gol Cioè è una cosa stranissima Perché questi due cambi davanti ci fanno perdere due giocatori Cioè giochiamo il nome in poche parole Perché ci abbassiamo tantissimo Vi ringrazio Grazie a te Lino, grazie per aver chiamato La risposta di Carlo Iacro, Carlo Unas quando è entrato è stato partecipe poi dell'unica azione In cui il Napoli ha tirato a porta Perché Unas è lui che è arrivato a fare l'1-2 con Mertens Mertens ha concluso a porta proprio negli ultimi minuti Che poteva addirittura risolvere di colpo la partita del Napoli Diciamo che Spalletti in questi casi In cui sta subendo l'avversario Può fare due scelte Quella di mettere Petagna Come diceva l'amico da casa Oppure quella di mettere giocatori piccoli Come Mertens e Unas Per attaccare gli avversari nel campo lungo Perché se metto Petagna Devo andarlo a cercare E provare a restare sopra Come diceva l'amico Per non abbassarsi troppo Però contro il Barcellona In quel momento il Napoli Non poteva che stare basso Perché stava subendo il gioco del Barcellona Quindi ha messo due uomini Che con la palla al piede Potevano andare ad attaccare lo spazio Mettere Petagna E poi non poterlo supportare Con tutti gli uomini Non aveva senso Ha parlato di Zielischi Intanto ci siamo abbassati troppo Nella ripresa Alla fine comunque è venuto fuori Un risultato più che positivo Abbiamo rischiato troppo Nel secondo tempo A Napoli sarà tutta un'altra storia Possiamo vincere E lo faremo Queste le parole di Zielischi Andiamo al telefono Pronto Pronto? Pronto Buonasera Buonasera Con chi parliamo? Ciao Sono Lelo da Portici Noi ci siamo sentiti La settimana scorsa Ciao Lelo Ben ritrovato Ciao Ciao caro Senti un po' Il Napoli ha giocato Contro un Barcellona Una blasonata E ha fatto una bella partita Diciamo Io voglio dire una sola cosa Io prendo sempre le difese di Spalletti Forse il signore di prima Vabbè Poteva Ha detto Ora voglio sapere Quegli allenatori Che la settimana scorsa Hanno criticato Spalletti Dove stanno? Perché io stasera Non penso Che Spalletti Abbia Sbagliato la formazione Tu che mi rispondi Ciao Buonasera Ciao 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 Carlo Io la penso Come l'amico da casa Nel senso che Innanzitutto Bisogna pensare A quello che è Il percorso Che sta facendo Il Napoli Quindi Dove si trova In campionato Perché in questo momento Si trova a due punti Dal primo posto E sembra gestire I momenti del campionato Con grandissima consapevolezza E In Europa Si sta giocando Gli ottavi Contro una squadra Come il Barcellona E tutto questo È merito del lavoro Fatto da Spalletti Quindi Criticare Secondo me Spalletti Per quelli che possono essere Due cambi È Ingiusto In questo momento Carlo La gestione Mertens Invece Danilo Prima Ha sentenziato L'ha toccata leggera L'ha toccata piano Perché ha detto Perché insomma Possono sembrare Un po' Degli atteggiamenti Quasi di gelo In questo momento Tra il tecnico Il giocatore Sappiamo che si sta Discutendo O meglio Mertens vorrebbe Il rinnovo contrattuale Che al momento Non arriva Guarda io credo Che Sono tre casi Possibili Tra di loro Sia Icardi Che Cullototti Adesso Mertens E Non tocchino In prima persona Spalletti Ma Spalletti Sia soltanto Ambasciatore Di quelle che sono state Le intenzioni Delle società Prima Nerazzurra E giallorussa E poi quella del Napoli Che volevano Lasciare andare Icardi Volevano che Totti Lasciasse il calcio E in questo caso Il Napoli Penso che voglia Non far prendere Troppo peso A Mertens Contrattuale Non so se Mi spiego Un giocatore Che gioca bene Che segna Che fa assist E che è nel pieno Della squadra Che si viene a sedere con me A discutere il contratto È diverso Da un giocatore Che gioca meno E che ha meno entusiasmo Quindi Tra le note positive Di questa sera Sicuramente la prestazione È di Fabian E di Anguissa Che è tornata Insomma A livelli importantissimi Sì 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 Anguissa è stato davvero fondamentale Ha recuperato tantissimi palloni E ha aiutato anche il Napoli A venire avanti Fabian Molto pulito tecnicamente È stato bravissimo Ha sofferto insigne Non era la partita giusta per lui Perché ha dovuto davvero correre tanto Ha sofferto Elmas Perché a destra Non è il suo ruolo Diciamolo A sinistra Può fare anche l'esterno Ma a destra Non è portato Mi è piaciuta la prova Dei difensori Juan Jesus Contro la Dama Traoré È stato puntato tantissime volte Ma è stato superato Soltanto un paio di queste Rachman e Coulibaly Insuperabili Partita di grande sacrificio Di Lorenzo Napoli stoico Napoli stoico Telefono pronto Luccio Eccoci Domenico Domenico Bello Allora contento di risultato? No Non sei contento di risultato Volevi la vittoria del Napoli ovviamente Sì Eh certo Speriamo di rifarci lunedì Col Cagliari Dimmi Domenico Ero Lunedì A tardi Lunedì? A quando? Alle ore Alle 18 Alle 18 iniziamo il prepartita Di Cagliari Napoli Un abbraccio Domenico Un abbraccione Ovviamente lunedì Gianni Il Mirino Il Cagliari Per un'altra importantissima giornata di campionato Pronto? Pronto? Con chi parliamo? Buonasera sono Enzo Ciao Enzo buonasera prego Beh Considerando che abbiamo giocato con una delle squadre più blasonate al mondo L'infortunio di Politano Lozano Il centrocampista Che ci stava dando l'equilibrio in questo momento Io posso dire che Abbiamo fatto una grandissima prestazione Era Siamo usciti dalla Tana dei Leoni a testa alta Perfetto Perfetto Enzo Effettivamente insomma Il Napoli specie nel primo tempo ha fatto vedere in alcuni tratti sul Civerdi al Barcellona Nel secondo tempo li abbiamo visti noi spesso e volentieri Ma si sapeva che sarebbe stata una partita di sofferenza Il Napoli ha saputo soffrire Colpite quando ha avuto la chance per farlo Il Barcellona Ci stava questo tipo di partita Certo che ci sta Certo che ci sta Sicuramente Poi hai fatto bene anche a ricordare l'assenza di Lobotka e di Politano Ormai Lozano insomma è già da un po' di tempo Ma comunque penso anche il messicano questa sera poteva dare una buona mano con la palla lunga e sulla fascia tenere in poca alta Però la buona notizia è che lunedì rientra in gruppo completamente Politano per cui al ritorno ce lo avremo sicuramente Siamo fiduciosi siamo fiduciosi per il ritorno e per il passaggio del turno E dobbiamo essere in tanti allo stadio quella sera Caro Enzo Forza Navoli sempre Ciao Enzo Grazie per aver chiamato C'è una grossa discussione anche sui social Carlo sul rigore sì e rigore no Chi dice che è un rigore farlocco Chi dice che il rigore c'è perché comunque la tocca con le mani con il braccio largo E forse è il Leggevo anche le dichiarazioni di Ciro Ferrara Secondo me è il giusto equilibrio Nel senso che Ferrara dice il rigore c'è perché la tocca con le mani Certo che difendere oggi con questi nuovi regolamenti è diventata praticamente impossibile Io voglio un attimo dire che mi trovavo d'accordo adesso all'ultima chiamata Con Enzo Sì perché lui ha parlato dell'assenza di Politano e di Lozano E lì è nato il gol del Napoli con Elmas che ha dialogato con Zielinski E lì un giocatore tecnico veloce come può essere Politano e Lozano Che sanno sfruttare gli inserimenti alle spalle di Alba che si alza tantissimo E' mancato e potrebbe essere un fattore al ritorno Tornando al rigore come si può non essere d'accordo con Ciro Ferrara Che è stato un difensore sicuramente capisce di calcio In queste situazioni il difensore si trova quasi costretto al giorno d'oggi a giocare con le mani dietro alla schiena Perché appena allarghi il braccio e aumenti la superficie del tuo corpo ti fischiano rigore Questi rigori in Europa li fischiano ma li stanno fischiando anche in Italia Non solo tanto in Europa quando la palla ti finisce sul braccio abbiamo visto cose eclatanti Abbiamo visto mani davvero a un centimetro dal corpo con rigori fischiati Anche perché Carlo poi va ricordato che a velocità normale, a velocità di gioco l'arbitro di rigore non l'ha dato E' stato richiamato al VAR anche dopo parecchio tempo da questo punto di vista Quindi se noi andiamo a visezionare tutti gli episodi che succedono in area di rigore Rigori così li fischieremo vita natural durante L'unico miglior ammarico guarda poi tornando a questo è la situazione in cui è andato a terra Rosyman Perché noi nel contatto con Eric Garcia noi non l'abbiamo visto tante volte L'abbiamo visto una a velocità normale e un'altra da dietro che non si capiva E quella situazione lì mi piacerebbe rivederla Telefono pronto? Pronto? Pronto! Buonasera! Buonasera carissimo, ben ritrovato, come stai? Tutto bene, a te tutto bene Luciano? Bene bene bene, siamo contenti del Napoli Forza Napoli! A noi non c'è nessuno A partire ci sono 5 minuti, un nuovo pubblico come questo E' giusto, è giusto Stasera è toccata a loro e tra una settimana toccherà a noi Complimento per la trasmissione Se non ti chiamo a te, non mi vado a dormire Allora adesso puoi andare a dormire Augusto, ci sentiamo lunedì amico mio Non mi vado a stare a te la cerimona, non ti potete chiamare Ciao amico mio, buonanotte, ciao a lunedì Ancora un'altra chiamata, pronto? Buonanotte, buonasera, buonasera Pronto? Pronto? Eccoci, buonasera Buonasera, siamo a Gennaro Prego Gennaro Eccoci, buonasera Abbassi il volume del televisore, ci senta soltanto dal telefono Grazie Gennaro Cioè una squadra con Barcellona, che è una squadra abbratonata Sì E' chiaro che noi siamo, a quel punto là il Napoli è una signora squadra Ad portare a Barcellona Cioè noi abbiamo giocato 45 minuti Con l'Inter abbiamo giocato 45 minuti Adesso non ho capito qual è la cosa Che abbiamo una mala preparazione Abbiamo Stalletti che non si ha messo più in campo Non ho capito questo Ah, ho capito, chiaro, 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 ho capito Carlo, dice Gennaro, insomma sono due partite consecutive Che il Napoli praticamente gioca soltanto i primi 45 minuti di gioco Nel secondo tempo sparisce quasi dal campo Sono anche due partite consecutive che gioca contro l'Inter e Barcellona però Quindi ci sta secondo me? Quindi quando affronti squadre del genere Non puoi pretendere di avere sempre Il pallino del gioco per 90 minuti Stasera non ha avuto mai il pallino del gioco con il Napoli Però ha fatto comunque la sua partita Poi nel secondo tempo si è abbassato un po' troppo Ma credo che non ci sia stato tanto scarto Tra prima e secondo tempo Come è capitato con l'Inter Con l'Inter bastavano quei 10, quel quarto d'ora in più Che manteneva lo strap E magari si poteva portare una vittoria a casa Però per stasera io non ho visto questa differenza Ha parlato anche di Lorenzo Potevamo fare meglio e magari servire gli attaccanti Dovremmo vincere anche perché Osimena spesso e volentieri È sembrato un po' troppo isolato Si è ancora a telefono Gennaro? Caduto, perfetto Andiamo a prendere un'altra telefonata Sta parlando anche Spalletti Abbassati troppo anche oggi Dobbiamo ancora crescere Qualità superiore da parte degli avversari E questa dichiarazione di Luciano Spalletti Credo giunga veramente Dopo la telefonata del nostro amico Quasi a chiosare Quello che stava dicendo Il nostro ultimo telespettatore che è intervenuto Perché insomma Guarda, prendi qualsiasi squadra della Serie A Anche la migliore l'Inter e il Milan La Juve e metti a giocare al campo Contro Barcellona Avrebbe fatto la stessa partita Non puoi fare diversamente quando giocano così Si, fatto sta insomma Che giustamente la gente poi Incomincia a vedere le prestazioni Una dopo l'altro Con dei cambi Come si accendessero un focus Su Spalletti e sulle prestazioni del Napoli E fa bene tu a sottolineare Che comunque il Napoli ha giocato Nell'ultimo turno Con la pretendente allo scudetto numero uno Che è l'Inter E con una nobile Tra virgolette decaduta Del calcio come il Barcellona Perché non è più il Barcellona Di qualche anno fa Che era stratosferico Extraterrestre Adesso è una squadra Molto più abbordabile Ma resta pur sempre Il Barcellona In casa propria Tra l'altro L'Inter ieri ha dimostrato Anche comunque Il suo gioco contro il Liverpool Ed è un gioco che Napoli Non è riuscito ad esprimere Questo no? Penso che va A favore Degli azzurri E della bontà Di quello che sta facendo Il Napoli di Spalletti E poi il Barcellona Come dici tu È una squadra Più giocabile Rispetto agli anni scorsi Che era Composta da 11 alieni È giocabile Però A livello di gioco Sono ancora i maestri Cioè hanno un metodo Di fare calcio Un metodo di giocare Che quando lo affronti O stai basso E riparti Oppure ne paghi le conseguenze Noi l'abbiamo visto anche In Confederation Cup Se non sbaglio Questa Era ottobre-novembre L'Italia affrontò la Spagna Una Spagna che come diciamo E anche lei è decaduta Però intanto è venuta a Milano Ci ha battuto Veritatamente E ci ha imposto il suo gioco E siamo i campioni d'Europa Questo non dobbiamo dimenticarcelo Sicuramente Carlo si ritorna in campo Tra una settimana Per quanto riguarda l'Europa League Invece il campionato Torna lunedì Con la trasferta di Cagliari Che cosa cambierà Rispetto alla partita di questa sera Tra sette giorni? Ci sarà un Politano in più Ci sarà un Politano Ci sarà un Politano Che è fondamentale Secondo me Sopra quella fascia E Io non so se cambierà Però il canovaccio Della partita Perché il Barcellona È abituato A giocare in questo modo Sempre Sia che gioca in casa Sia che gioca fuori casa Ci sarà più Spirito nel Napoli Perché giocherà in casa E quindi Anche una corsa In più in avanti Perché stasera A un certo punto Hanno fatto anche una corsa in meno Perché non potevano continuare A andare avanti e indietro Non potevano continuare ad aggredire Hanno fatto anche una corsa in meno E si sono accontentati del pareggio Settimana prossima Invece faranno anche una corsa in più Perché sono gli ultimi 90 minuti Ricordiamo Si gioca sui 180 Quindi Portare un pareggio Nei primi 90 In casa tua Questo può portare Ovviamente in caso di 0 a 0 Di 1 a 1 Insomma di pareggio Si andrà ai supplementari In qualsiasi caso di pareggio Si va ai supplementari Allora Intanto È appena arrivato il gol Dell'Olimpia Cos In casa Dell'Atalanta Quindi Atalanta 0 Olimpia Cos 1 Che è la squadra di Manolas Tra le altre cose E Stasera gioca anche la Lazio Col Porto Col Porto E per il momento È ancora 0 a 0 Il risultato Ricordiamo anche Il clamoroso tonfo Del Dortmund Che cade 4 a 2 In casa Con i Rangers Di Glasgow E Il Borussia È una di quelle squadre Accreditate per la vittoria finale Quindi L'Europa League Perderebbe Almeno per il momento Se fai fuori il Barcellona Ed esce il Borussia È la strada Spianata No? Eh sì Verso Verso la vittoria finale E Stavo vedendo anche il calendario Poi No? Di La prossima partita Di Serie A Abbiamo detto che il Napoli Giocherà A Cagliari Lunedì La giornata però Inizierà venerdì Addirittura Inizia domani C'è il derby C'è il Juventus Torino Poi sabato Il Milan Andrà a Salerno Quindi viene qui In Campania Una partita facile No? La prima della classe E Domenica Invece L'Inter Affronterà il Sassuolo In casa E La Lazio Invece L'Udinese Fuori di casa Quindi Non ci sono grandi Partite di cartella Sulla carta Non dovrebbero esserci particolari scossoni Alla classifica E sono quelle giornate che però Possono fare la differenza È chiaro Perché qualcuna può perdere un punto Se ti esce Sì La cosiddetta macchia Esatto Adesso I punti iniziano a pesare veramente tanto Perché ovviamente si riduce il tempo poi di recuperare Se non sbaglio restano soltanto due scontri diretti In totale proprio Tra tutte le prime quattro C'è un Juventus-Inter Sì E un Napoli-Atalanta Ancora Vero Vero Atalanta-Napoli E c'è anche Napoli-Milan Napoli-Milan Poi sono finiti gli scontri diretti C'è ancora Napoli-Milan Sì Poi per il resto Si sono affrontate praticamente Tutte Commentiamo le parole di Spalletti Primo tempo alla nostra portata Rigore inesistente Dobbiamo capire dagli errori Critico Almeno per quanto riguarda Questi due flash che abbiamo battuto Grazie a Mattia Esposito Spalletti Carlo Sai poi dal campo hai percezioni diverse Sicuramente di quelle che sono le situazioni di gioco Spalletti non so se avrà visto il video Del tocco di mano Però noi battiamo sempre la stessa linea Questi rigori purtroppo Vengono dati sia in Italia che in Europa Imparare dagli errori Secondo me Si riferisce all'abbassarsi poi troppo Negli ultimi minuti di gioco Quindi voleva una squadra che Tenesse reazione No? Fino all'ultimo Le parole nello specifico di Luciano Spalletti Non ce l'abbiamo fatta a stare corti Ci siamo abbassati troppo E con loro È un problema Gli permetti di pressarti subito E non hai le distanze corrette Per riorganizzare la ripartenza Non dovevamo farlo Ma la loro qualità è in dubbia E si è quindi portato a concedergli qualcosa Crescita Napoli Ci sono momenti dentro la partita Dove non riusciamo ad organizzare una pressione alta E dove si riporta Palla indietro E gli altri vengono addosso Senza che ti diano il tempo Di organizzare una ripartenza In certe cose dobbiamo ancora crescere Poi è chiaro che loro hanno fisicità E gli uno contro gli uno Sugli esterni Per metterti in difficoltà con i loro strappi Si è portato a tenere la linea bassa Ma sul campo bisogna tentare la scalata Con un centrale sui loro centrocampisti Altrimenti la superiorità numerica Te la manifestano fin dentro l'area Di rigore E se alzi la palla Poi puoi giocartela Dobbiamo fare dei passi in avanti Barcerona alla portata Nel primo tempo siamo stati alla pari Nel secondo abbiamo sofferto un po' Ma possiamo mettere a posto le cose Il rigore Con tutta l'onestà Dico che meritavano il pareggio Ma il rigore è inesistente La palla non cambia direzione La tocca col mignolo E la palla va dentro l'area Non ha nemmeno la mano troppo giù Ma Iesus si mette le mani dietro E si limita nei movimenti La sua visione è questa La palla non cambia direzione Posso essere disponibile Loro hanno meritato il pari Ma quello non è mai calcio di rigore La posizione di Osimène Victor rafforza degli strappi Più gliela dai lunga Più riesce a prendere metri sul marcatore Nelle scelte deve ancora imparare qualcosa È stato fischiato troppe volte in fuorigioco Ma è uno che ti fa respirare E tiene occupato tutto il reparto La richiesta è sempre la stessa Quando la palla è lavorata in maniera giusta Vai dietro il centrale e attacchi la profondità Sto fermandoci sull'aspetto difensivo Credo che lui abbia impostato Una partita più aggressiva del Napoli Voleva più incoscienza nei suoi Incoscienza cosa vuol dire? Vuol dire non aver paura I due centrali di difesa I due centrali di difesa Devono uscire forti sul centrocampo avversario Quindi che Koulibaly e Rachmani a turno Andassero sul portatore di palla del Barcellona Ma questa è una cosa molto rischiosa Perché poi se vieni saltato nel pressing Ti trovi la squadra all'interno dell'aria E poi dice che voleva la palla giocata in avanti Questa è una cosa che vogliono soltanto gli allenatori Che vogliono creare gioco Quando giochi la palla dietro Hai timore dell'avversario O comunque te li porti all'interno dell'aria Quindi giocare la palla sempre in avanti Obbliga il tuo giocatore anche a giocare di prima A avere una velocità di pensiero portata all'attacco Per quanto riguarda Osimène Credo che anche lui abbia visto Quella che è stata la prestazione di Osimène Perché Osimène ha fatto una prestazione davvero importante Secondo me Ha giocato da solo Ha fatto il reparto da solo E ha dimostrato che da solo Può tenere impegnati due centrali Di una delle squadre più grandi d'Europa E questo è promettente per il Napoli Anche se, e questa è una domanda Che in alcuni telespettatori ritrovo spesso e volentieri Hai la sensazione che Luciano Sparetti Debba preparare anche un piano B Cioè giocare qualche volta a due lì davanti Perché a volte si ha l'impressione Come stasera Che il povero Osimène sia costretto a Portare da solo la croce lì davanti Che in qualche modo Insomma lui stesso ha giustificato Dicendo che lui più spazio ha davanti Più riesce a recuperare poi metri al marcatore Eccetera eccetera Però ha spesso e volentieri Ha veramente l'impressione Che sia troppo solo Sì Lucio sono d'accordo con te Questo penso sia uno dei difetti Una delle mancanze del Napoli Su cui Sparetti deve giocare Deve allenare Ovvero su un piano B Perché io avevo visto una grossa crescita del Napoli Nel momento in cui si è fatto male Osimène Perché con Mertens erano obbligati A un gioco più associativo Tra di loro, tra centrocampisti e attaccante Ritorno Osimène E il Napoli va ancora a giocare molto sul lungo Quindi deve trovare ancora questo equilibrio Tra gioco di posizione e gioco di profondità Assolutamente Siamo ai saluti finali di quest'ennesima puntata Di l'Una Azzurra Stadio 2.0 Speciale Europa League L'Europa League torna tra una settimana La mettiamo tra virgolette in Naftalina Per sette giorni Perché lunedì bisogna concentrarsi Solo ed esclusivamente sul campionato di Serie A Che come ci ha ricordato Carlo Ci propone la sfida contro il Cagliari In terra sarda Mentre la Salernitana ospiterà la capolista Milan E l'Inter invece ospita il Sassuolo Per un turno di campionato Che sulla carta può presentare delle insidie Soprattutto per la squadra di Luciano Spalletti Che invece dovrà fare sicuramente Una prestazione importante E dare ulteriori risposte anche a quei tifosi Che in questo momento sono un po' più scettici Sull'operato di Luciano Spalletti Delle ultime partite Su alcuni cambi Sulla gestione di alcuni calciatori E anche sulla prestazione fisica Della stessa squadra Che nei secondi 45 minuti di gioco Sembra quasi sparire dal campo Ma a queste risposte ovviamente A queste domande Sapranno dare risposta I calciatori della nostra squadra Grazie ai signori tecnici di TV Lunda Senza quali non sarei mandati in onda Grazie a Carlo Iacono Grazie a te Lucio E un saluto a tutti gli amici a casa E con voi L'appuntamento ovviamente è per lunedì Quando torna il campionato di Serie A Con Cagliari e Napoli Il nostro prepartita A partire dalle ore 18 La partita iniziale 19 Noi un'ora prima vi racconteremo Le sensazioni che giungono dalla Sardegna Grazie e buonanotte